Un vero e proprio sito di stoccaggio delle palme abbattute in città perché colpite dal punteruolo rosso. Si trova proprio dietro l'area del cantiere comunale di Oristano, non proprio l'ideale, secondo i consiglieri di opposizione, che hanno presentato un'interpellanza a primo fermatario Francesco Federico, richiamando un'ordinanza sindacale del 2014. La stessa prevedeva la distruzione o l'interramento delle palme, non certo l'accumulo che potrebbe ulteriormente favorire l'infestazione del punteruolo rosso. Grazie.